ben trovati davide il critico oggi pagellanze pagellanze in pausa pranzo di bologna fiorentina 2 a 1 la prima vittoria in campionato ragazzi è stata una domenica magica bellissima una di quelle domeniche che non vivevamo da un sacco di tempo ma un sacco di tempo e soprattutto abbiamo goduto tanto su diversi aspetti anche per quanto riguarda tutta la gente perbenista che ha iniziato a lanciare mail ma sulla mia città beh diciamo che non si è sentita oggi non è stato diciamo interpellato nessuno a riguardo del bologna ha parlato solamente del fallo che è stato fatto da parte di casus e quindi un errore della var però del resto io non ho sentito nessuno parlare incredibile siamo tornati nel nostro classico e amato anonimato abbiamo fatto regalare qualche like e qualche bella figura a personaggi che a quanto pare ne avevano bisogno e quindi e quindi va bene così va bene così siamo qua per fare pagellanze per rispetto io prima ti ricordo di iscriverti al canale mentre mi piace video e di andare su instagram a seguire la pagina davide critico sempre con rispetto lucas sei e mezzo parate decisive sicurezza reparto il gol subito non è colpa sua una palla in mezzo così per un portiere è imprevedibile non puoi farci nulla difesa partiamo subito con la sorpresa posh sei e mezzo partita galattica ho visto finalmente un difensore fare il difensore sembrerà incredibile ma era un pezzo che non vedeva una cosa simile posh titolare partita ottima sotto tutti i punti di vista esperienza take el anche tecnica certo non ha i piedi di barro però sa giocare a calcio di fianco a lui medel sei e mezzo come posh ottima partita ha completamente annullato jovic annullato lo ha completamente cancellato dal campo è uscito ce l'aveva in tasca ci ha messo un po a uscire perché pesava dalle tasche jovic partita clamorosa di gheri medel di fianco a lui lucumi sei a volte con la palla in mezzo ai piedi non lo vedo così sicuro però senso della posizione ottimo ottimi take sicurezza reparto diciamo che quando ha come detto prima la palla in mezzo ai piedi non è che proprio io sia in una botte di ferro gradino sopra peggiore in campo da parte del bologna poi peggiore in campo per come è finita è per come è finita perché siamo sinceri fino al gol di musa barro c'erano tra 4 lì in mezzo inguardabili poi dopo si sono ripresi tutti alla grande ma tra 4 inguardabili fino al gol di barro uno tra l'altro era proprio barro però parliamo di casus 6 e mezzo assist importantissimo fondamentale a me non fa impazzire come giocatore tecnicamente secondo me deve migliorare ma di tanto tantissimo ma non ci si può dire nulla sulla parte dell'impegno ottimo assist che ci ha fatto vincere la partita probabilmente c'era un fallo se non lo fiscano a me sono qua a urlare come una pantera non so che altro raggiungere dall'altra parte cambiaso male peggiore in campo ragazzi cambiaso io non so ci hanno ci hanno dato in prestito quello tristo non ho idea non so cinque inguardabile anche ieri nulla di buono nulla di buono ci hanno dato quello scarso nulla di buono in mezzo al campo invece sorpreso da ebisher che anche lui fino al gol di barro non proprio indiscutibile però alla fine ha portato a casa un 6 diciamo così porta a casa un 6 scout e neanche lui 6 ha fatto due o tre ingenuità che tutte le partite rischiamo di pagarle chiaccare è ovvio che lui ha la palla tra i piedi più spesso però questa sicurezza a volte diventa leggerezza e noi corriamo rischi inutili di fianco a lui soriano un giocatore completamente diverso cioè sembra tornato soriano di un anno e mezzo fa 6 e mezzo partita ottima sotto tutti i punti di vista probabilmente italiano gli ha lasciato troppo spazio col suo gioco non lo so fatto sta che in tante altre circostanze poteva avere più spazio e non l'ha sfruttato come ieri soriano ieri è stato soriano 6 e mezzo gradino sopra c'è quello che mi ha fatto urlare fino al sessantesimo come un matto Musa cioè non prendevi un calcio d'angolo non stoppavi il pallone non saltavi neanche i cinesini cioè eri inguardabile poi abbiamo fatto il gol che ti fa prendere un 7 ma sei stato inguardabile io voglio che l'ultima mezz'ora tu la concentri per tutta la partita ne voglio altre due di mezz'ora così facciamo 90 minuti puoi farlo ma soprattutto devi farlo perché quei piedi lì ce li hai solo tu Arnautovic clamoroso devastante scende dalla panchina da istruzione ai compagni giocatore micidiale sotto tutti i punti di vista l'arma in più l'arna in più per quanto riguarda questo Bologna questa società questa piazza questo tutto l'uomo immagine di questo Bologna 6 su 6 un gol ogni 90 minuti devastante 7 e mezzo panchinari è entrato lì con Yannis 6 peggio di quello di prima non poteva fare 6 è entrato a Torsolini 5 e mezzo io sono stanco di correre dei rischi stupidi al 93esimo non ti puoi mettere a far tunnel nella loro area di rigore prendi il pallone va alla bandierina e speri che succeda qualcosa ma non c'è pericolo che tu ti metta lì a fare i tunnel perdi palla dobbiamo tornare indietro al 97esimo perché ha dato 50 minuti di recupero perché tu avevi voglia di tentare la giocata sul 2 a 1 no non esiste tu vai alla bandierina perdi tempo fai passare tutti i secondi che servono ci vuole anche un po' di furbizia astuzia ma hai pulcini hai pulcini ma anche uno che non sa niente di calcio ci arriva stai vincendo 2 a 1 sei nel recupero cerca di temporeggiare altre entrate è entrato Bonifazi che sono felicissimo di dargli SV abbiamo capito che Bonifazi gioca se non c'è nessuno Sayen Chong Sayen Chong Bonifazi Duga altrimenti Ansval Brisa che al va bene al va bene al va bene al va bene Lolo di Silvestri anche lui SV Vigiani 7 non so l'unica partita in Serie A la portiamo a casa fantastico fantastico ragazzi partita fondamentale vittoria fondamentale abbiamo azzittito allontanato il mare di Melma che ci stava fino diciamo alla gola vittoria bellissima fantastica contro una rivale storica quindi godiamocela ti ricordo di iscrivervi al canale per rispetto mettere mi piace al video per rispetto andare su Instagram per rispetto seguire la pagina Dario del Critico per rispetto